Sempre più imminente lo sgombero del mercatino etnico delle aree di risulta Pescara. I rumors parlavano di un possibile blitz delle forze dell'ordine per la mattinata di oggi, ma quel che sembra certo è un'azione entro le prossime ore. L'assessore al commercio del comune di Pescara Giacomo Cuzzi ribadisce però che si lavora ad un progetto condiviso. Che vogliamo riportare coloro i quali vogliono operare nella legittimità amministrativa attraverso delle opportunità appunto nella sfera di quella che è poi la legalità amministrativa e quindi abbiamo da prima individuato un'area alternativa per la realizzazione di un mercato etnico nel terzo tunnel della stazione ferroviaria. Per questo il percorso si è un po' allungato diciamo perché occorrono oltre alla variante urbanistica anche i pareri dei ferrovie dello Stato e poi abbiamo dato la possibilità a coloro i quali vogliono operare individuando degli spazi liberi all'interno dei mercati rionali offrendo anche loro uno sportello diciamo per la semplificazione delle attività legate alla burocrazia. Le opposizioni premono affinché questo problema venga però risolto in breve tempo? Le opposizioni hanno avuto tempo e modo nei cinque anni di governo della città per risolvere la problematica invece non si sono occupati del problema e oggi fanno folklore attraverso delle dichiarazioni. Noi invece in due anni e mezzo abbiamo messo mano a tutte le situazioni dei mercati abbiamo messo mano anche a questo problema e lo risolveremo con la tenacia e il coraggio di sempre dando delle opportunità ma sicuramente riportando tutto all'interno dei regolamenti e delle norme che questo comune ha.